Ben tornati in studio e oggi noi giochiamo, giochiamo con il nostro ospite Pietro Turano, organizzatore delle Olimpiadi dei giochi tradizionali. Buongiorno, ci dica un po' anzitutto, settimo appuntamento, evento organizzato dalla provincia di Cosenza, tanti comuni coinvolti? Sì, siamo arrivati alla settima edizione, c'è la consacrazione ufficiale di questa iniziativa che fa parte di un progetto che è quello di recuperare questo modo di giocare di qualche anno fa, come giocavano anticamente per generazione e generazione e che si è interrotto 50-60 anni fa per l'arrivo delle nuove tecnologie, quindi ha un po' spazzato via questo modo di giocare che secondo me, secondo un bel gruppo di persone che stanno insieme a me in questo progetto è il caso proprio di riprendere, di recuperare perché sono dei giochi emozionanti, belli, appassionanti che coinvolgono totalmente la persona. Ma quali sono questi giochi? Sono proprio divisi per discipline in queste Olimpiadi? Allora, io parto sempre dalla Bibbia, che è il libro che io stesso ho pubblicato, che su questo libro ci sono circa 200 giochi della tradizione. Forse in questo momento è il libro più completo che c'è a livello nazionale per quanto riguarda i giochi tradizionali. E le discipline invece delle Olimpiadi sono... Allora, per quanto riguarda le Olimpiadi noi abbiamo scelto delle discipline che era possibile anche fare delle classifiche perché è competitiva come le Olimpiadi e questo un po' è una forzatura perché il gioco è spontaneità, il gioco si fa giusto per il gusto di giocare. Noi abbiamo introdotto questo elemento della competizione che è un po'... però l'abbiamo fatto proprio per creare interesse. E le assicuro che questa competizione sta suscitando un interesse in tutta la regione, anche fuori regione noi siamo arrivati oramai, al punto che sabato al Parco Robinson di Rende ci dovrebbero essere qualcosa come 27 comuni in rappresentanza di tutta la regione Calabria. E quindi queste discipline abbiamo visto nelle immagini il cerchio, la trottola, ora è una borsa meravigliosa e sembra la borsa di Mary Poppins. Adesso io la pregherei di uscire fuori questi giochi, se ne ha portato qualcuno, ce li descriva lei i giochi della tradizione. Questo è il cerchio. Questo è il cerchio ed è una delle discipline delle Olimpiadi. Alle Olimpiadi noi abbiamo scelto sei discipline. La gara per eccellenza a squadre, nell'atletica leggera c'è la staffetta, si conclude sempre le Olimpiadi secondo con le staffette. Noi concludiamo con il tiro alla fune, le squadre da otto elementi che si affrontano quindi in questa competizione, il tiro alla fune. Poi la prima disciplina individuale è questa qua, è il cerchio. Questo è un gioco antichissimo che lo facevano nel periodo greco-latino anche. I romani lo chiamavano troco su questo ed era inseguita da questa verghetta ricurva che era la clavis. Senta, ma giocano i bimbi delle scuole, ma si divertono più loro? Secondo lei preferirebbero giocare i genitori. E dubbiamente questa è un'operazione che recupera anche questa integrazione generazionale. una volta tanto che i nonni, gli adulti si sentono rivalutati in quanto più bravi dei bambini e quindi diventano maestri dei loro nipotini per addestrarli in questa disciplina. Passiamo ad un altro gioco perché ce n'è uno che ha un nome particolare a quanto parebbe. Ho scoperto che è legato proprio alla tradizione, c'è pure un modo di dire, lo faccio dire a lei perché se pronuncio male il dialetto, il dialetto è cultura, non bisogna sbagliare le parole. Questo è un altro dei giochi conosciutissimi. Il termine di riferimento nazionale è la Lippa, nella zona di Roma è la Nizza. Qua a Cosenza è Ustiriggio. Poi questi giochi hanno questa caratteristica, cambiano nome, basta spostarsi da un paese all'altro e cambiano di nome, però il gioco è sempre lo stesso. A Cosenza è conosciuto come Stiriggio ed era un po' ritenuto uno dei giochi meno nobili. Quando qualcuno non riusciva bene a giocare o non era competitivo, gli si diceva ma io caro Stiriggio, nel senso che sei capace di giocare allo Stiriggio. Quindi possiamo giocarci tutti allo Stiriggio. Possiamo giocarci tutti. Noi non l'abbiamo introdotto nelle discipline olimpiche perché è un po' pericoloso. Bisogna lanciare in aria questo pezzettino di legno. Questo è un po' ritenuto come l'antenato del baseball, perché bisogna lanciare in aria il pezzettino di legno a puntito e poi colpirlo al volo e mandarlo a distanza. Poi c'è tutta una competizione da spiegare. Senta, poi c'è il gioco, credo, quello più amato da tutti, più noto, quello semplice. Però prima ci abbiamo provato e abbiamo scoperto che tanto semplice non è, perché ci vuole tutta una tecnica. Eccolo qui. Questo è il re dei giochi tradizionali. La trottola. La trottola. Però è importante anche dire il nome con cui è conosciuto nella nostra zona. Anche questo cambia nome da zona. Io giro continuamente nei paesi. In ogni paese ha un nome particolare suo. Però a Cosenza, a Napoli, da Napoli in giù, Cosenza compreso, è conosciuto come Ustummolo. che deriva proprio da un termine che usavano gli antichi greci. Gli antichi greci praticavano questo gioco ed era perfettamente uguale. Probabilmente era di un materiale diverso, però aveva questa forma e veniva lanciato in avanti e poi tirato all'indietro con uno spago, quindi in effetto frusta gli si dava. E quindi lo chiamavano strombos i greci. Dal termine strombos, noi che siamo stati a contatto con la cultura greca, la magna grecia, quindi abbiamo ereditato questo nome, Ustumbulo, che poi è diventato Ustumbulo. I latini invece lo chiamavano Turbo Turbinis, che sta proprio per movimento vorticoso. Non a caso i motori turbo probabilmente derivano da questo... Di un gioco antichissimo. Ma chi volesse acquistare questi giochi? Questi hanno tutta fattura artigianale, si vede chiaramente. Ma ci sono ancora in commercio, si trovano? Allora, come punto di riferimento, su Cosenza c'è solo una zona. Che è la zona, io lo dico giusto, perché in questi giorni ne stanno smerciando parecchi. Ed è la zona vicino alla chiesa di San Francesco di Paola, la zona centro storico di Cosenza, dove ci sono... E sono sempre artigiani però che li realizzano. Penso che... no, questi li fanno pure con i macchinari. Ci si può esercitare, quindi si possono acquistare per la gioia. Però noi, nelle Olimpiadi che dicevamo prima, noi ogni anno scegliamo il gioco dell'anno. Quest'anno è il gioco dell'anno e lo Ustumbulo. Che significa? Noi abbiamo intenzione di completare questo percorso, questo progetto del recupero dei giochi con la creazione di un museo dei giochi antichi. E quindi quest'anno devono portare la... Il tempo sta finendo, quindi ricordiamo l'appuntamento. L'appuntamento sabato dalle nove in poi, Parco Robinson di Rente, Olimpiadi dei giochi tradizionali. Se dovesse il tempo purtroppo piovere, ci rifugiamo in una sentura al coperto. Ci affidiamo al tempo. Quindi ai ragazzi, la parte migliore è che finalmente spegneranno giochi, videogiochi e si dedicheranno ai giochi di una volta. Io devo salutarla qui, non abbiamo più tempo in bocca al lupo per questa bella iniziativa che vinca il migliore. E noi adesso, prima di salutarci naturalmente, diamo subito uno sguardo alla nostra agenda.